Venezia viene assegnato sulla base dello statuto a soggetti che si distinguono nel promuovere o realizzare importanti interventi di restauro e recupero del patrimonio architettonico, ambientale o infrastrutturale di Venezia e del territorio della città metropolitana di Venezia. Rilevando il ruolo e la responsabilità sempre maggiori delle comunità nell'esprimere istante consapevoli e percorrere soluzioni sostenibili facendosi soggetti attivi nei processi di rigenerazione e di manutenzione continua delle città, il premio viene assegnato a tutti i cittadini veneziani e con ordinarie e straordinarietà si impegnano quotidianamente per mantenere Venezia città viva e attuale.